Oh dopo tanti anni adesso noi siamo all'ultimo episodio di una trilogia chiamata la trilogia del rifare top 10 su Super Mario Maker in sani livelli del primo Super Mario Maker. Allora numero uno zoo escape in questo livello dovremmo andare a prendere a cazzotti in uno zoo dei mob con a quanto pare un guscio spinato. Il livello è strapieno di mob e dobbiamo fare attenzione perché se entriamo in una delle gabbie saremo bloccati lì almeno che non avete il guscio. Se uno è non prendo il guscio lo completo semplicemente qua. Ah di Gare avevo letto un articolo cioè Breath of the Wild avete presente? Sì completa uno streamer la completa senza camminare solamente per aggiungere un po' di commentari. A. Capendo che poi il livello è strapieno di lucky tu che lanciano cose alla fine ma ne valza la pena. Fiu! Poi non prendere il fungo. In realtà noi non dobbiamo crescere con il fungo che fa crescere anche se nel livello ce ne sono 3000. In realtà c'erano degli ostacoli ma per fortuna dal primo Super Mario Maker dal secondo intendo dire c'erano queste cose di tornare senza avere un guscio no? Beh forse sto un po' esagerando ma comunque c'erano degli ostacoli per creare queste cose. In realtà non si doveva andare con il fungo altrimenti perché questo richiedeva che voi non prendeste mai il fungo. Il player poteva pure sclerare e finiva in un modo un po' strano tipo il fungo resta un amico che ti segue sempre. Questo è il motto. Poi recuperare il P-Switch. Avete presente Indiana Jones? Proprio questo andare nel tempio maledetto per poter ricostruire un ponte che a quanto pare è costruito in una specie di casa che a quanto pare sembra essere davvero molto oscura e sembra quasi essere uscita da un film horror tipo Monster House bellissimo. In realtà voi dovrevate scappare da questa casa perché il P-Switch vi serviva per creare il ponte che vi ho fatto vedere all'inizio ovviamente. Ma come saprete non c'è una virginilità nel poter riuscire a recuperare bene cioè a volte ci lasciava cioè pure cioè sembra è come avete presente Dark Souls? Il vecchio della palazzina si è riuscito a giocare a quel gioco ma comunque ma comunque fieri fieri pam. Poi il tempio della ciambella cadono dei pavimenti che a quanto pare sembrano essere rilasciati dai tuomp. In realtà voi dovrete prendere molto tempo che allora molti non me li ricorderò. Comunque comunque voi dovevate andare in questi ponti che cadevano poi nella lava e dovevate fare molta attenzione e molta agilità altrimenti poi voi finivate schiattati manco io quando gioco agli sparatutto. Comunque avevo postato un meme di a quanto pare di a quanto pare un tipo che in realtà ha i superpoteri più inutili però uno c'era leggere nel pensiero dell'IKEA. Poi in un video ve lo faccio se questo video arriva a due like lo faccio. Comunque voi andavate a prendere questo coso e in realtà dovevate riandare e poi voi finivate e pam! Poi Mario Tennis, Mario vs The Computer. Allora questo rispecchia molto la grafica retro in cui in realtà dovevate sconfiggere il computer nel tennis. Un po' lo stile di Pong, avete presente no quel gioco? Sì però c'era un problema, ci sono dei livelli in cui c'erano dei gusci, sempre dei gusci e se sbagliate potevate morire, proprio morire. Non sto scherzando, morire, proprio morire è la cosa più pazza che avete mai fatto in vista vostra. Ounque sì, il livello è abbastanza bello, concesso a quelli che hanno giocato a Pong per diversi anni e questo è tutto. Comunque poi, Bowser la ruota del fuoco in cui ci sono questi gironi infernali di giro giro tondo che sono di fuoco. In realtà voi vi ritrovavate in questo bel tempo in stile New Super Mario Bros Wii con a quanto pare le rotazioni. Che sembra quasi che voi sembravate all'inferno, io non conosco un vulcano di Campania. Ma comunque voi vi ritrovavate in sto inferno di ruote infernali che poi voi dovevate correre, che manco già quando sbagliò quel rigore. Vabbò, non vi ho mostrato la clip ma comunque sono un po' affaticato. E in realtà voi dovevate andare da tutte le parti, da qui, di qua, di là e di qua e di là, come degli scellerati. Sì, proprio. Degli scellerati continui e poi battavate Bowser che alla fine avete detto che Google è meglio. Comunque poi, Super Mario Bros 1-1 behind the scene, dietro le quinte di Super Mario Bros 1-1, che a quanto pare che sembra davvero molto bello. Uno dei livelli più belli nella storia dei videogiochi. In cui voi eravate dei Goomba, sì, erano aggiunti i punti interrogativi, e dovevate prendere delle monete. Fra un po' ci sarà l'error rate. Comunque, sì, dovevate prendere queste monetine così per accedere alla versione ultimata. Una cosa che mi stupisce è che quando prendavate una monetina sembravate come se fosse su Zelda. Sì, proprio, vi appariva Gesù. Forse perché avete detto, avete completato un pezzo di livello, vi sarete a grati. Comunque, sì, andavate da tutte queste parti per il livello. E poi dovevate ultimare la ultima versione, che si arrivava dopo una caverna molto spostositata. Potrebbe esistere una parte 2 al mio prossimo compleanno. Comunque, sì, il livello è molto bello. Sì, si è fermato. Oh, sto bug. Comunque, 30 years of NES. Allora, per celebrare i 30 anni di vendita di NES, anche in 30 anni di Mario, si è stato deciso di fare questo livello con Metroid, Donkey Kong Jr. Vabbò, è solo questo, ma non preoccupate che poi, quando uscirà la versione per SNES, comunque, c'è questo livello che è una bella cosa. Poi Punch Out, schivabile, semplicemente saltando sopra i blocchi dell'arena. Poi Kirby, sì, proprio questo, e potevano farlo, questo gioco. Poi Link, sì, proprio questo, proprio il nostro caro Dizio. Mega Man, proprio bello. Poi Kid Icarus, un altro bel gioco da provare. Poi Super Mario Bros. 2, con i personaggi giocabili che non sono, che non erano nel primo, tranne Luigi. E Super Mario Bros. 3. E alla fine, poi, si schiacciava e c'era un messaggio. Ness Love. Bene. Poi, Mario vs. Bowserzilla. Primo, unico livello di questa trilogia ad essere fatto in Italia. Quindi, dal vostro, dal nostro creatore, che a quanto pare ha conferito sto livello in stile Godzilla. In realtà, Mario va in sto livello lunghissimo, che manco guardarsi tutte le stagioni di Game of Thrones in un solo minuto. Vabbò, quelli sono i dettagli, però. In realtà, si andava in giro in là, in là, in giro, in cui si andava, semplicemente, ad andare via da questa orribile scena. In cui, ogni parte del robot si decompositava. Man mano andavate avanti, in realtà, dovevate entrare proprio nel robot e andare negli ingranaggi. E poi, dovevate andare in giro per la città. Comunque, poi, la boss fight finale, che è una delle cose che... Ma, manco lo scontro finale di Avengers Endgame. Oh, e quindi si risolve la situazione. Poi, numero uno, beat of hunger, you break. Ok, allora. Questo, di nuovo, è il livello insano visto anche nella top dei hard. Beh, sì, proprio così. Proprio così. Proprio così. C'abbiamo un'interruzione. Scusate, il coso si è interrotto. Comunque andatevi a vedere. Comunque andatevi a vedere. E quell'altra del difficili. E comunque, dal vostro insano level maker chiamato Stefano999. È tutto e ciao ragazzi.